Il 5 agosto 1989 Da quel tragico giorno del 5 agosto 1989 non c'è più niente che mi faccia sorridere questo è il luogo che mio figlio amava tanto tutti i suoi momenti liberi le trascorreva qui cercando di stare con la famiglia, a pescare e mi ricorda i miei momenti fenici dopo la sua morte questo luogo mi turba perché penso che mio figlio non c'è più mi manca la sua voce che dice mamma, mamma dove sei? Vorrei tanto che avessi giustizia per i miei figli per i miei nipotini loro si stringono nelle spalle e non mi dicono niente e allora io ho pensato che un giorno andrei nel deserto del Zara prenderei granelline di sabbia gliele chiederei allora Gesù fammi sapere che è stato prima di morire perché ho detto ai miei figli se non avrò giustizia mentre sono viva nelle mie tombi dovete scrivere qui in giace schiena Augusta mamma dell'agente Agostino una mamma in attesa di giustizia anche oltre la morte grazie